cara congettina buongiorno sono in perfetto orario e sono tuta a dovere il tuo caffè grazie buono come al solito raffè ma che è questo armamentario che ti porto a presto questo armamentario come dici tu è l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica portieneristica la scienza portieneristica è la scienza dei portieri ho già trovato già capito hai trovato pure tuo modo per rotondare ma no non ho ancora però ho trovato il modo per imboscarmi e dedicarmi all'orotondamento ho inventato il primo citofono cpv ma no forse gsm no no cpv citofono portiere uomo veramente ma come consiglio sto coso ecco qua è semplicissimo prima quando un condomino mi voleva chiamava in portine via e naturalmente non lo trovavo non lo trovavo perché stavo facendo altre cose con relativa incazzatura del condomino e dell'amministratore opportunamente avvisato dal condomino che automaticamente tenevamo moglie di dubbia moralità e cioè quel condomino automaticamente teneve il lavoro adesso invece quando un condomino mi chiama attraverso un'antenna che parabolica sopra il palazzo ma non lo è no 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 non lo è raffae parabolica si dice a me ho detto di caccia raffae parabolica e comunque attraverso questa antena mi arriva la chiamata direttamente sopra il citofono io rispondo e dico pronto sono raffaele il portiere che sto in portineria che cosa vi posso servire e così non ho più bisogno di stare in portineria nel raggio di tre chilometri questo è sempre cadente e vabbè questa è la mia dipendenza questo è il mio ufficio secondario io mi riferisco a quando vado a fare i giri per le cose miei capito comunque vado proprio in ottimi devo stupare questo citofono e visto e però secondo me sai che che non sarò d'accordo è proprio l'amministratore l'amministratore non lo saprò quello è proprio il re degli imboscati io quando lo cerco non lo trovo mai ma ho saputo che sono due giorni che mi va cercando e non lo può telefonare tu non lo quando è bella quella semplicerca perché mi vuole dare qualche lavoro extra non retribuito capito proprio ma come sto organizzando per un rotondamento e ne trovate ancora niente 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 però ho pensato una cosa voglio proporre al direttore di fare il testimone ma come chi l'ha ancora da trovare una pagliuna ancora tanto spostato ciò che ti vuoi compari ah no raffaele ah concetti concetti ma non il testimone del compari della nozza ah io dicevo il testimone della reclame ah raffaele e allora si dice il testimonial è inglese ah si sicuro a me mi pare non ci penso piglialle pusalle purtalle sparalle testimonial ma raffaele ah ecco qua io avevo pensato questo guarda un grande manifesto con me sopra con la tazzina in mano e sotto c'è scritto anche raffaele beve caffè e bordeaux esatto e là da parte un altro grande manifesto con un occhio grande grande un triangolo grande grande sotto c'è scritto e tu cosa bevi con un rito che esce a questo e tu cosa bevi raffaele ah dimmi ma fammi piacere non mi piace basta non ti voglio sentire perché io ho già cominciato a faticare ah mi riteniamo va a te eh non ti piace tu vuoi capisciare qua capisciare qua tu eh raffaele che ti aspetta non ti aspetta e tu cosa bevi a te cosa non vuoi raffaele ma fammi piacere no 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 no